Dai Jerry che partito! Ah, è già partito! Sì, Jerry! Frastornante! Su Facebook c'è una pagina molto importante dove attingere video, loghi, idee e contenuti. Come si chiama? Beh, balottaggi e istruzioni per l'uso. Per Pisa Pia, per De Magistris e per Zedda. Vinciamo insieme! Assolutamente, vinciamo insieme! Appassionatamente! Andate sulla pagina di Facebook. Allora, la prima cosa che troverete su questa pagina è una collezione di video registrati in questi giorni, molto belli, molto simpatici, di forte impatto che possono aiutare a dare emozione e compito. Li trovatevi, arrangiatevi, copiatevi, rubatevi. La seconda cosa che possono trovare sono... Beh, per vedere delle immagini e soprattutto dei loghi. Abbiamo fatto dei loghi originali per Pisa Pia, sindaco, in arancione, per De Magistris, sindaco, in arancione, e per Zedda, sindaco a Cagliari. Sosteniamoci insieme, sosteniamoci con forza, con concentrazione e con lavoro, divertendoci anche. Assolutamente. Poi abbiamo delle idee eccezionali per una campagna diffusa. Idea numero uno, il foglio arancione. Il foglio arancione. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di un foglio arancione A4 che serve per colorare la città. Se ne possano comprare una Risma, 500 sono, quindi dovrete trovare degli amici. Vi dovrete premonire di un rotolino di scotch, possibilmente con stralbo, per facilità. Staccherete il rotolino di scotch e lo attaccherete ai pali della vostra città. Milano, Napoli, Cagliari. Sì, certo. Bene, e questa è la prima idea. L'abbiamo già fatta a Milano, sta funzionando, la gente si ferma e vi chiede che cosa sta succedendo. E voi direte qualcosa. Seconda idea. Beh, se non siete, appunto, tanto pratici della città, beh, possiamo marcarci con un braccialetto arancione. Fatto di qualsiasi tipo di materiale. Si prende un rotolo, lo si taglia, perfetto. Se lo si gira, ce lo giriamo attorno ed ecco che improvvisamente potremo dare un segnale agli amici di riconoscimento e anche agli altri. Se qualcuno vi chiede qualcosa, potrete dire quello che vogliamo. Per le signore più snob potremmo usare dell'organza. Più elegani. Oh, scusate, più elegani. Più elegani. Ci mancherebbe altro, il best nob, come dire, albergono in altri territori. Bene, poi, la P per auto. Gerry, di che cosa si fai? Beh, la P per auto, più o meno, siamo stati tutti dei principianti. Lo siamo soprattutto nelle campagne elettorali spesso. E allora abbiamo pensato di fare una P per auto. In due modalità, la P bianca e la P nera, dove c'è scritto in piccolino, non principiante, ma per Pisapia, sindaco. Ovviamente questo vale solo per Milano, perché con De Magistris non veniva bene e neanche con Zedda. E quindi questa è un'idea in più per Milano. Si può mettere Zedda sindaco per De Magistris sindaco. Sì, 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 assolutamente. Tra l'altro queste campagne possono e devono essere fatti tutti quanti affratellati, finalmente, nord, sud e isole comprese, uniti nella vittoria. Poi, allora, la P per auto l'abbiamo fatta. Naturalmente si mette posteriormente nell'auto in modo tale che si possa vedere una campagna efficacissima, anche questa poco costosa. Bambierine! Ah, questo l'ho trovato stamattina, eh! Qui stiamo già parlando di cosa ipertecnologica. che potrebbero essere eventualmente marcate con le iniziali, no? De Magistris, Zedda, Pisapia. Assolutamente. Perché non ci sia Zedda sindaco, Pisapia sindaco. Comunque, ovunque, avrete con la vostra fantasia la possibilità, appunto. Attenzione, sono anche riciclabili. La prima festa che farete la sera della vittoria la potrete usare per trovare. Allora, paghi uno, usi due volte. E poi, a gentile ricordo, per i secoli dei secoli, direi che più o meno ci siamo. Abbiamo trovato dell'altro materiale di uso promiscuo. Sì, noi milanesi abbiamo la metropolitana, ma anche napoletani. A Caleri, no, 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 no. E ci sono dei favolosi bocchettoni d'aria, stile Mel in Morrow, al quale si possono attaccare questi rotoli di plastica arancione. Di taglio di inglese a desiderare. Esatto. E si possono fare, volantare come se fossero, senza loghi e macchie. Bene, noi pensiamo di avervi dato qualche idea interessante. è quello che stiamo facendo. Vi confermiamo che qui a Milano siamo migliaia a fare questo. Abbiamo molto entusiasmo, molta concentrazione, molta serenità. Tutto questo per dare pace, sicurezza e prosperità alle nostre città. Assolutamente, assolutamente. Tutti insieme? Appassionatamente. Appassionatamente. E buon vento! E buon vento!